Buonasera a tutti, sono Alberto e oggi voglio proporvi un effetto molto particolare. Allora, ho qui un mazzo di carte blu, come potete vedere, carte normalissime. Cosa fa un mago appena prende un mazzo di carte in mano? Solitamente mescola, ci sono vai metodi per mescolare. Io ad esempio uso questo, metodo all'americana. Poi c'è anche questo, metodo all'italiana. Ah, poi c'è come mischiano i giapponesi, i giapponesi mischiano così. Non so perché, no, ovviamente sto scherzando, ma i giapponesi mischiano normalmente. Comunque, ho bisogno di un volontario, quindi... non so. Chi vuole essere volontario? Chiamo io. Chiamo, chiamo. Chiamo? La signora, la... Dovete sapere che quando io faccio un gioco di magia, non lo faccio mai da solo. Uso quattro collaboratori, quattro amici. Il primo è lui, l'asso di picche. Il secondo si nasconde sempre a metà del mazzo, circa quattro, ed è l'asso di fiori. Il terzo, invece, è un po' più complicato da trovare, perché devo usare gli altri due. Quindi, asso di fiori più asso di picche, asso di quadri. E infine l'ultimo, il più difficile, provo a trovarlo così. Dunque, manca l'asso di cuori, e questo è l'asso di cuori? No. No? Ah, devo risolvere. Quindi facciamo un po' così. Ok, arriva anche l'asso di cuori. Ora dimmi, Stella, ti piacciono gli assi rossi o gli assi neri? Assi neri. Gli assi neri, come mai gli assi neri? È una decisione importante. Dunque, allora, io mentre poso le carte, mi dici stop quando vuoi. Puoi fermarmi sul 2 di picche, sul 7 di picche, quando vuoi. No. Qua, la poso o la tengo? Posola. Ok. Lascio il primo, qual è uno degli assi preferiti? I neri? I neri? Ok. Lascio il primo asso nero a tenere il segno di dove? Ok. Di nuovo? Quindi così. Stop. Di già? Ok. Pento l'altro asso a tenere il segno. Perfetto. Quindi ora ci sono due assi posizionati in punti casuali. Vado a prendere la carta vicina, dove mi è fermato il tempo. Nel primo caso è uscita una donna di cuori. Mettere nel secondo caso un 4 di quadri. Quindi donna di cuori e 4 di quadri. Ok. Io non vi ho detto che avevo una predizione qua dentro? All'inizio del gioco non ve l'ho detto. Ah, allora ve lo dico ora. Donna di cuori e 4 di quadri. Questi li lascio dentro la scatola, tenetela pure d'occhio perché ci servono poi alla fine del gioco. Ora gli assi li uso per fare qualcosa di particolare. Dunque, pesca con una carta. La vuoi, eh? La vuoi cambiare o ti piace? Mi piace molto. Lascialo pure qua in mezzo. Ok. Perfetto. Parto dagli assi rossi, assi neri. Uguale? Sì, rosse. Basta rosse. Uso gli assi per ritrovare la tua carta ma in un metodo particolare. Uso il principio dei miraggi. So, vedete cosa sono i miraggi? Un miraggio è qualcosa che vedete ma che in realtà non esiste. Quindi, con i due assi rossi e con gli assi neri, Dime pure, qual è la tua carta? La caccia di cuore. Dieci di cuore? Sì. Ok. Vado a prendere l'immagine del dieci e la stampo su un assolo. Vediamo? Dieci di cuore. Ora però avanzano gli altri tre assi, quindi fiori, cuori e quadri. Vado a prendere l'immagine da qua e stampo dieci di cuore in un altro asso. Perfetto. Rimangono due assi, fiori e quadri. Cioè così. Vi svelo come ho fatto. In realtà io uso l'asso di fiori, quello sopra, per cancellare l'immagine dell'asso di quadri e per attaccarci quella dei dieci di cuore. Tutto questo mi fa rimanere con l'ultimo asso, quello di fiori, perché mi basta sfregarlo un po' per tattumare l'immagine di cuore. Quindi ora siamo vittime non di uno, ma di due, tre e quattro miraggi. Miraggi perché questi sono sempre stati i quattro assi normali. Quindi, se qui ci sono sempre stati gli assi, sono giù il problema, perché dov'è finita l'avvocata? Ti ricordi che l'avevi messa più o meno a metà marzo? Sarebbe difficile tagliare esattamente nel punto giusto dove lavorare. Provo, eh? Aspetta perché non è molto facile. Qua. Che carta era? Dieci di cuore. Dieci di cuore. Meno male. Ora, prima di finire, faccio un'ultima cosa con un mazzo rosso, perché l'ho già usato, quindi... Questo è un mazzo nuovissimo. Lo so perché una volta ho disordinato un po' le carte, però è nuovo in genere. Ti chiedo di dirmi un numero dal 1 al 52, che non sia più o meno proprio il 2, il 48, un numero più o meno in mezzo, quello che vuoi, vai. 27. 27? Ok. C'è un motivo particolare? No. Io vado a contare 27 carte, mi fermo e vado a prendere la carta. Come potete vedere, ci sono ancora le carte pubblicità e le carte sono tutte diverse. Quindi prendiamo le carte pubblicità. Non ci serve. Vado a contare 27 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Ci siamo fermati su questa carta, ok? E' una scelta libera, giusto? Poteva uscire 7 di quadro, 10 di fiori, 6 di fuori, una carta in mezzo è uscito il re di fiori. Ok. Se vi ricordate, io prima avevo detto che le due carte là dentro ci sarebbero servite dopo. E in effetti, se io vado ad aprire ora qua l'astuccio, dietro la donna e dietro i quattro, c'è scritto 6 di bicchia. Grazie. Grazie. Intanto devo ricordarmi un po'. Grazie. Grazie. Grazie.